Buongiorno a tutti ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo FIFA pronostico Ho sentito, ho visto appena adesso la conferenza stampa di Allegri Allora ho cambiato le impostazioni, vedete che ho messo campione, come qualcuno mi aveva detto Allora, sentendo la conferenza stampa di Allegri Metterò questi giocatori qui Perché? Perché Quadrado non ci sarà, quasi sicuramente Anzi, sicuramente Mark Pjanic non ci sarà sicuramente, l'ha detto anche lui Quindi io penso, e sentendo che anche Matudi ha saltato mezzo all'allenamento Per me non giocherà dall'inizio E quindi metterà un 4, purtroppo, un 4, 2, 3, 1 Sentendo che metterà comunque Mangio e Ciguain e Dybal insieme Penso comunque che metterà anche Costa Almeno spero E penso quindi che, allora Pjanic ce lo leviamo anche dalla panchina Penso che metterà Asamoah come terzino sinistro E penso che sarà questa formazione qua Un 4, 2, 3, 1 Con Buffon, Lieksteiner, Bernatia, Chilin e Asamoah Chilin e Asamoah, Chilin e Marchesio E Costa di Bale Mandzukic dietro Iguain Barzagli tirerà un po' il fiato E mettiamo ovviamente, no, non è Buffon Ovviamente Shesney, scusate E quindi Pinzoglio Questa è un po' la formazione che mi aspetto domani Sì, vabbè, Bentancur sono queste le sostanzioni che posso fare Niente, allora partiamo Partiamo e vediamo come andrà questa partita qui FIFA pronostico, Elas Verona Juventus Cucchiaio Vabbè Quindi benvenuti a Elas Verona Juventus Stadio Pentegodi, come ha detto Allegri Allegri ha fatto anche dei discorsi molto buoni Anche sul fatto dei giovani su di Bale Una volta in Italia si aveva la pazienza di aspettarli Adesso si pretende subito tutto quello che dico io sempre E dopo una mezz'ora buona si paragonano già ai Messi Cristiano Ronaldo Mentre una volta devi fare non 100 presenze Ma 100 partite da titolare Per, diciamo, avere una buona considerazione Comunque, tornando a noi, è iniziata la partita Adesso vediamo cosa riusciamo a fare Come ha detto anche Allegri Dal 2001, scusate, la Juventus non vince a Verona Contro l'Elas Verona Quindi bisogna stare molto attenti perché è una partita molto insidiosa È vero che sono penultimi se non sbaglio Però sapete che contro di noi danno sempre il tutto per tutto Asamoah Asamoah per Marchisio Vediamo, gestiamo la palla con Marchisio Perché Che dira Che dira per Lieksteiner Che prova a partire Che dira per Indietro ancora La Juve prova a gestire Dentro Attenzione La palla arriva lì La difesa del Verona si chiude molto bene Tocco per Asamoah Il Verona si chiude molto bene Veramente È difficile Se non ci si inventa qualcosa È difficile penetrare questa difesa Dentro per Costa Ha intercettato il pallone Costa però prova a ritornare su La Juve resta lì però Passaggio sbagliatissimo Può ripartire l'Elas Verona Attenzione La Juventus si chiude subito però Ancora l'Elas Verona Attacca in modo insistente Procesni Adesso recupera il pallone dopo il retropassaggio Se non sbaglio Di Benatia Asamoah Dentro per Mandzukic Esterno sinistro Che purtroppo Sembra che Sia veramente Innamorato di questo giocatore Io proprio qua Non riesco a vederlo Nei tre d'attacco Nei tre trequartisti Come esterno Chiude bene la difesa della Juve Può ripartire Dentro Tibala Dentro per Higuain Higuain Prova a accelerare Non c'è nessuno in mezzo però Dentro per nessuno Non si fanno vedere i giocatori I compagni di Gonzalo Allora può ripartire l'Elas Verona Attenzione però Palla è recuperata sulla trequarti Da Di Bala E ancora passaggio sbagliato E che cazzo Può ripartire la Juventus Ma ancora il Verona Ferma tutto Attenzione Asamoah Dentro per Mandzukic Si fa vedere Higuain Dentro per lui Ancora una volta Non c'è nessuno in mezzo Dentro per Attenzione Di Bala La palla Oh ma si chiudono Veramente C'è Fanno catenaccio Come la realtà Higuain Lì messerà tra in zona offensiva Per la Juventus Asamoah Non si fa vedere nessuno Che cazzo Il passaggio è sto qua Chiellini Asamoah Mandzukic Di Bala Higuain Prova entrare in area di rigore Higuain Dentro per Di Bala Di testa Che non arriva neanche sul pallone Costa La metto in mezzo ancora Palo Mandzukic Mario Mandzukic 1-0 Allo scadere del primo tempo Al 45esimo esatto Mario Mandzukic Incredibile Dopo un palo incredibile Finisce così il primo tempo 0-1 Facciamo subito Le sostituzioni Se no poi mi dimentico E chi posso mettere Bentancur Posso mettere Ma non l'ho messo Quindi Bernardeschi Al posto di Mandzukic Anche se so che non lo farà Però Ci spero De Sciglio è infortunato Quindi no Matuidi Al posto di Marchisio Penso Ah no Al posto di Che dire Lo metto Perché Marchisio Comunque è l'unico Che ha qualche qualità Centrocampo Cioè almeno io Ragionerei così Poi non so Allegri come ragionerà Probabilmente A un certo punto Metterà Barzagli Però Spero di no Attenzione al Verona Che ora è sotto Per un gol Al 45esimo minuto Attenzione Pallone Preso Io sono andato Nel 2013 A Verona Che prendevo il pareggio Al 92esimo Una cosa allucinata Attenzione Dentro per Costa Il pallone è per lui Può provare il tiro Centrale Bruttissimo tiro Di Douglas Costa Però la Juventus Continua Imperterrita Come stracazzo Si dice La può mettere in mezzo Già fuori gioco Nettamente Fuori gioco Netto Fuori gioco Netto Fuori gioco Netto Cazzo Rimessa al fondo Per l'Elas Verona Ancora la Juventus Però che non demorde Assolutamente E qua il Verona Però chiude bene Può ripartire Quindi contropiede Romulo Ex giocatore Della Juve Che purtroppo è stato Sfortunato Con noi Tanti infortuni Ma siccome era Un buon giocatore Dentro per Costa Attenzione Costa può mettere in mezzo In questo momento Calcio d'angolo Per la Juventus Lo batterà Paolo Di Bala Di Bala La mette in mezzo Attenzione Contropiede del Verona Io odio Quando non riusciamo A concludere l'azione Almeno tirala fuori Attenzione Pazzini Prova a chiuderlo Grandissimamente Licksteiner Una delle poche diagonali Che gli è riuscito Attenzione Douglas Costa Dentro per Di Bala Prova ad accelerare Poi se lo sposta Su sinistro Prova il tiro al volo Non gli riesce Di un attimo Veramente Qua forse c'è un fallo Di Malo Non viene visto Probabilmente Di Bala Per Iguain No No Cazzo Gonzalo Attenzione Ancora la Juventus Dentro Sbaglia il passaggio Però Stiamo sbagliando Un po' troppo In questo Frangente Della partita Sia in fase Conclusiva Sia Negli ultimi Passaggi O comunque In qualche Passaggio Attenzione Al Verona Che è molto Molto Pericoloso In Casa Per fortuna Che cazzo Che cazzo fai Vabbè Calcio d'angolo Per il Verona La metto in mezzo Scesni Stavolta di pugno Ce la fa A spazzarla via Può ripartire Attenzione Ricupere la palla Ma forse c'è un fallo Per il Verona Ti pareva Calcio e punizione Per il Verona Battuto in mezzo Spazza via La difesa Della Juventus Che ora stiamo soffrendo Ora stiamo veramente Soffrendo Attenzione Tiro In girata Rimessa dal fondo Per la Juventus E finalmente Si può un po' Rispirare Però il Verona Presa subito Molto alto Quindi Ceasney Costritto a rinvio Lungo Matuidi Per Douglas Costa O come cazzo Volete chiamarlo Insomma Non rompetemi le balle Attenzione Licksteiner Dentro Douglas Costa 1-2 Passaggio In voler Per Douglas Costa Higuain Douglas Costa Ancora La mette in mezzo Non c'è nessuno Per il tiro Come ogni volta Arrivano sempre Prima loro Sul pallone Può ripartire Il Verona Però ferma tutto Ancora la Juventus Non scosta Higuain Di Bala Dentro Bella Questa azione Della Juventus Dentro Per Higuain E' ancora La palla Matuidi Salta di testa Più in alto Di tutti Però La palla Ancora del Verona E può ripartire Attenzione Perché siamo quasi Alla fine I bug di FIFA Sono dietro l'angolo Attenzione Recupera la palla Molto bene Però la Juventus Dentro Per Higuain Si prova a girare E Di Bala Non arriva sul pallone Dugra scosta Però Attenzione Ancora il Verona La palla Ancora buona Attenzione 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 1 a 1 Cerci Io non ci posso credere Non ci posso credere Verona 1 Juventus 1 Probabilmente era l'ultima azione E finisce così la partita Hellas Verona 1 Juventus 1 Incredibile Incredibile davvero E non ne bestemmio semplicemente perché è un video Quindi Però Fidatevi che Quando 45esimo Manzuki Il 90esimo Cerci Allo scadere Ha segnato una squadra Poi l'altra Questo era il gol di Manzuki Che poi in scivolata Ha ribattuto in rete Ovviamente Speriamo non vada così Speriamo Che vada In maniera Contraria Dato che avevo detto Che fatalità L'unica volta Che hanno andato A Verona A vedere La Suverona Juventus Pareggiarono 2 a 2 Rimontando 2 gol Al 92esimo 93esimo C'era ancora Tony Che ci segnava anche Vabbè Niente ragazzi Detto questo Vi auguro Buona giornata Vaffanculo Porca troia Vaffanculo L'ultima azione Della partita E hanno fatto gol Sti stronzi Veronesi Vabbè Ciao a tutti E ci vediamo Al prossimo video Fino alla fine Forza Juventus E speriamo invece Che vada meglio Molto meglio Domani sera Ciao a tutti E Forza Juve